Sarà possibile votare dalle 8 alle 20 nei locali dell'ex negozio Cheope in corso video al Civico 79. Potranno votare tutti i cittadini residenti a Sulmona, compresi i giovani che compiranno il diciottissimo anno di età entro la data del 15 aprile 2013. Roberto Spinosa, segretario del PD di Sulmona, intende rivolgere un appello a tutti gli iscritti e simpatizzanti affinché partecipino a questa grande occasione di democrazia che ci permetterà tutti insieme. Dice di riaffermare il principio che le primarie sono ormai divenute un momento di scelta condiviso ed avverso a vecchie logiche di potere. L'invito alla partecipazione, prosegue Spinosa, è rivolto, ripeto, a tutti gli iscritti al Partito Democratico, ivi compresi coloro i quali hanno rinnovato la propria tessera il 29 dicembre in occasione delle primarie parlamentari. Ricordo inoltre, conclude, che il PD è presente in queste elezioni primarie di coalizione con tre candidati, tutti ugualmente autorevoli e preparati per il ruolo di sindaco della città, che sono Raffaele Giannantonio, Antonio Iannamorelli e Teresa Nannarone.